Come sta andando il campionato? Mancano poche giornate alla fine, un bilancio di questa vostra stagione? Dal punto di vista del divertimento tanto, dal punto di vista dei risultati un po' così così, dai siamo in fondo ma l'importante è giocare, divertirsi e stare insieme. In fondo non perché voi siete scarsi ma perché gli altri sono molto forti. Sì, sono molto forti, poi abbiamo avuto diverse vicissitudini, in fondo per meriti nostri ma va bene così, per noi l'importante è divertirsi, non farsi male e stare insieme. Siamo un bel gruppo, questo è l'obiettivo per noi. Ci racconti un po' la storia della vostra squadra, da quanto tempo giocate assieme, cosa vi spinge a continuare queste esperienze nel campionato del CSI? Ma come ti ho detto siamo un bel gruppo, insomma con quelli più vecchi, passami il termine anche se è brutto, sono veramente tanti tanti anni che giochiamo insieme e quindi ci troviamo molto bene. La logica è proprio trovarsi e avere questa serata che diventa veramente un impegno per tutti ma anche un divertimento. Il CSI fa un ottimo campionato a sette e quando abbiamo colto questa opportunità perché tra l'altro devo dire che venendo dall'undici però è un onesto compromesso anche man mano che l'età avanza, è molto divertente, ben organizzato e quindi ci troviamo molto bene. Quindi lo consiglierei sicuramente. Allora Stefano, insomma anche con te facciamo un bilancio di questa stagione, di questo campionato visto che manca poco alla fine. Ma guarda, da un punto di vista tecnico noi siamo abbastanza modesti, ci posizioniamo a metà classifica, non abbiamo partese, però l'importante è stare tra amici, quindi è una bella esperienza stare insieme, tutte le sere insieme, così quindi il divertimento poi è quello. Ci sono alcune squadre forti, sicuramente superiori al nostro livello, non pensavo che over 35 ci fossero ragazzi che giocano ancora così forti. Quindi effettivamente almeno le prime due del nostro girone hanno veramente una marcia in più, potrebbero competere anche con i ragazzi di 20 anni. Noi siamo amici, quindi giochiamo insieme solo per stare insieme, quindi effettivamente non cerchiamo persone da fuori per ottenere il risultato. Giochiamo noi, quello che viene, viene, ma stiamo solo per divertirci insieme. Campionato ormai va verso la conclusione, vi organizzerete anche per l'anno prossimo, c'è la voglia insomma di continuare questa esperienza? Sì, sì, direi che lo faremo, la voglia l'abbiamo sempre, quindi sicuramente continueremo. Il campionato siccome è molto bello e ben organizzato, quindi noi abbiamo voglia di rifarlo.